Vediamo un po' quindi cosa succede dopo che il vostro progetto, quello che avete presentato e che sarà sicuramente approvato, dovrà essere realizzato. La mia presentazione di oggi quindi interviene esattamente in questa fase. Il progetto è stato già presentato e approvato, deve essere semplicemente, si dice in gergo tecnico, anche se è una parola che a me non piace molto, implementato. Quindi realizzato. Ecco, cosa succede quindi dopo, come si realizza un progetto europeo, la parte di comunicazione all'interno di un progetto europeo? Io oggi presento sette passi metodologici per la redazione di un piano di comunicazione e attraverso la presentazione di questi sette passi metodologici cercherò anche di spiegare e di mostrare con esempi le azioni, le attività di communication e visibility, ma anche dissemination e exploitation dei risultati che devono essere comunicati per un qualsiasi progetto europeo. Ecco, questi quindi saranno i tre casi di studio da cui attingerò di volta in volta per mettere in pratica cosa? I sette passi, abbiamo detto, metodologici per la redazione di un piano di comunicazione. Perché è vero che il nostro progetto europeo al suo interno contiene già una proposta di comunicazione e questa proposta di comunicazione non sempre è strutturata in maniera completa. E' tale che il committente, la commissione europea o non so nel vostro contesto chi potrebbe essere, non chieda magari degli approfondimenti, magari delle parti un po' più strategiche o un po' più operative. A proposito del piano di comunicazione, che però è uno strumento estremamente importante, non soltanto per organizzare la vostra attività di comunicazione, per coordinarla e per realizzarla, ma anche come strumento un po' di rendicontazione, perché il piano di comunicazione sarà richiesto, spesso richiesto anche come output, delle linee di attività legate alla comunicazione, per avere un documento tangibile che attesti la visione strategica del vostro operato o del communication manager, del communication expert che gestirà questa parte del vostro progetto europeo. Ecco, il piano di comunicazione quindi è un documento richiesto dal committente, valutato in sede di revisione, per esempio nella midterm review, una revisione intermedia, al solito si fa dopo un paio d'anni in progetti molto lunghi, per esempio, ma anche a di fine progetto. Il piano di comunicazione, oltre a giustificare il pagamento delle varie tranche, perché è appunto un deliverable, un output di quella linea di attività, consente innanzitutto a voi o a chi per voi dovrà gestire l'attività di comunicazione a compiere scelte strategiche e consapevoli fra più opzioni disponibili. E perché dico questo? Perché il piano di comunicazione sicuramente non risolve tutti i problemi. Quello che fa realmente il piano di comunicazione è aiutarvi a ripartire risorse limitate di budget, di tempo, di professionalità, eccetera, su azioni prioritarie e lo fa in un arco temporale definito. Ecco, questo è, a mio parere, il valore aggiunto di un piano di comunicazione, al di là di tutte le specifiche e tecnicismi formali che poi ovviamente richiedono questo documento per anche esigenze di progetto e di rendicontazione. Innanzitutto il piano di comunicazione non è unico, è immutabile. Per esempio, quel progetto di cui vi ho parlato prima, U Gateway Business Avenues, è stato un progetto quinquennale durato dal 2016 al 2020, o meglio, questa è la parte per cui l'ho seguito io, l'ultima edizione. E quindi c'è stato un piano di comunicazione generale per tutto il progetto con delle revisioni e degli aggiornamenti annuali, quattro aggiornamenti annuali, che in realtà, anzi, spesso hanno, non dico stravolto, ma cambiato profondamente le attività previste, anche gli obiettivi sono stati aggiornati e adeguati alla situazione del momento. Basti pensare alla pandemia in corso, probabilmente ha avuto qualche impatto anche sull'attività di questo, come di tanti altri progetti, e anche dal punto di vista della comunicazione si è reso necessario cambiarle. Almeno per quel che riguarda la mia metodologia, comunque collaudata, ormai accettata a livello anche, non solo europeo, ma nazionale, locale, e giù a scendere, il punto di partenza di un piano di comunicazione è sempre l'analisi. E l'analisi, ovviamente, include il progetto per il quale stiamo lavorando, e tutta una serie di altre, ovviamente, cose. Perché dall'analisi, e grazie all'analisi, quello che riusciamo a fare è individuare e identificare degli obiettivi di comunicazione. E questi obiettivi di comunicazione, guardate bene, devono essere a supporto dei più ampi obiettivi del progetto. Una volta, quindi, fatta un'analisi che ci abbia consentito di identificare gli obiettivi, si passa poi, ed è soltanto a questo punto che ci si arriva, alla individuazione dei destinatari. L'individuazione dei destinatari è fatta associando, abbinando, destinatari specifici a obiettivi specifici. Nel senso che un obiettivo può avere, come pubblico di riferimento, un certo gruppo di destinatari, un altro obiettivo, magari, ne avrà un altro ancora. Ed è per questo che non si comincia dai destinatari, ma si inizia, appunto, dall'analisi, il progetto, l'analisi anche del contesto, ovviamente. Questa fotografia, diciamo, di opportunità e minacce, punti di forza e debolezza, immagino che ne abbiate parlato, o ne abbiate già sentito parlare nella vostra vita, di questa sorta di matrice, vi consente, comunque, di individuare gli obiettivi a supporto del progetto, quindi obiettivi di comunicazione a supporto del progetto, per ciascuno di questi. Individuare segmenti di destinatari prioritari, e poi, per ciascuno di questi segmenti prioritari, di interlocutori, di destinatari, di pubblico di riferimento, preparare quel mix, quella combinazione di diverse strategie che sono più adatte a farvi raggiungere quegli obiettivi. A queste strategie, a questi destinatari, a questi obiettivi, si abbina poi un altro mix, un'altra combinazione, in questo caso, di contenuti, e solo allora, solo in questo momento, è possibile pianificare il cosiddetto media mix. Cos'è il media mix? è, banalmente, la combinazione di canali, ma potrebbero essere il sito web, potrebbero essere affissioni, potrebbero essere eventi e fiere, potrebbero essere pubblicità su radio e tv, eccetera, eccetera. In ogni caso, il piano di comunicazione, la metodologia corretta, non parte da qui, dagli strumenti, ma parte, come abbiamo visto, dagli analisi. E perché? Perché il mix di canali e di contenuti è semplicemente una conseguenza logica delle scelte che avrete compiuto nei passi precedenti. E guardate che questa coerenza logica, fra gli obiettivi, i destinatari, la strategia, e i canali, il media mix di cui stiamo parlando ora, è molto, molto apprezzata, questo rigore formale e metodologico per la redazione di un buon piano di comunicazione. In ultimo, anche se si tratta più di un'attività che io definisco a ciclo continuo, che inizia e non si ferma mai, c'è la parte di monitoraggio e valutazione, che consente di correggere il tiro, per esempio, in corso d'opera, qualora le cose non dovessero andare bene, consente di dimostrare che effettivamente state facendo le cose per bene, e comunque vi dà il polso della situazione. Ecco quindi che abbiamo visto questa rapida panoramica, i sette passi metodologici per scrivere, per redigere questo documento, piano di comunicazione, che poi vi servirà però non soltanto per darlo ai valutatori della mid-term review, per esempio, quindi della valutazione di metà periodo, ma anche per coordinare e realizzare tutte quelle azioni. Quindi la metodologia si compone di questi sette passi, in sequenza, e come abbiamo visto, l'analisi iniziale si raffina progressivamente, si traduce in azioni e strumenti specifici e logici, di comunicazione integrata. Non si fa solo sul sito web, non si fa soltanto sulla televisione, è un mix, l'abbiamo definito, di media mix, di canali e di contenuti. Adesso, sebbene vi possa apparire forse un po' rigido questo schema, questi passi metodologici, in realtà lo schema è flessibile, i passi sono questi, iniziate dall'analisi, passate agli obiettivi, destinatari, strategie, contenuti, media, e poi ovviamente monitoraggio e valutazione che debba non solo chiudere il cerchio, ma essere presenti in ogni fase. Ma questa metodologia, questo schema così fisso, è abbastanza flessibile, nel senso che i contenuti del piano poi variano chiaramente da un progetto all'altro. Il piano di comunicazione non è quindi un calendario di contenuti da pubblicare, non è un piano editoriale. Quello lo vedremo, ce li ho gli esempi, ma il piano editoriale arriva qui, quando pensiamo al content mix, non prima, arriva qui e qui, content and media mix, ecco qui abbiamo il nostro piano editoriale. Quindi il piano di comunicazione cosa ci dà? Ci dà la visione complessiva, ci spiega perché comunichiamo gli obiettivi, a chi ci rivolgiamo, il nostro pubblico di riferimento, i destinatari, come comunichiamo, attraverso le strategie, e anche cosa comunichiamo, il cosiddetto mix di contenuti. L'analisi è il primo passo, vediamo come questa analisi si porta avanti in un progetto europeo, in questo caso gli esempi saranno internazionali, ma possiamo benissimo pensare a come calarlo in un contesto più ristretto. Il punto di partenza, quindi da dove si preme il pulsante di avvio, è proprio la proposta tecnica con cui il vostro progetto è stato presentato, è stato presentato, è stato approvato, ecco quello è il punto di partenza formale per sviluppare il vostro piano di comunicazione. Nella fase di analisi, chiaramente non potete ignorare quello che avete, per virgolette, venduto all'Unione Europea per realizzare il vostro progetto. E di solito in questa proposta tecnica cosa si trova? Nelle proposte tecniche di solito io trovo le note per i valutatori, quindi una parte in cui il progettista spiega il suo cosiddetto understanding of the task, quindi cosa ha capito che viene richiesto dal committente, dalla Commissione Europea per esempio, parla un po' delle cosiddette lessons learned, quindi cosa ha imparato anche, analisi e implicazioni, magari in quel settore cosa funziona, comunicazioni su canali digitali oppure più tradizionali, poi c'è tutta una parte sull'approccio, la proposta di attività con degli indicatori e degli output, le competenze offerte, cioè voi, il vostro progetto cosa offre, cosa mette sul piatto, e poi un'ipotesi di calendario dei contenuti. In ogni caso, l'analisi, come potrete immaginare, può coprire una quantità elevatissima di fattori, e noi non abbiamo tutto questo tempo, dobbiamo partire, cerchiamo anche di limitarci a tutti quegli elementi, interni e esterni, che potrebbero ostacolare o favorire le attività del progetto, senza dilungarci troppo. E a proposito di questo, a proposito di altre scelte, strategiche sempre, perché per come imposteremo l'analisi, poi discenderà, abbiamo visto anche, il nostro piano di comunicazione, e quindi tutta una parte del nostro progetto europeo, che inciderà, che potrebbe incidere pesantemente sui risultati finali. Il primo punto, uno, non il primo, ma uno dei punti di cui dobbiamo tenere bisogno, è tener conto, scusatemi, e il vostro budget. Ok? Noi potremmo fare tantissime cose, avendo a disposizione 100 milioni di euro solo per la comunicazione, ma se non è così, ecco, il budget già ci indirizza verso scelte possibili. Ovviamente il budget non è inteso solo come risorse economiche, ma anche di tempo, di personale, e così via. Un'altra cosa da tenere in considerazione sono le richieste del committente, perché è vero, il vostro progetto europeo, ha una sua proposta tecnica, che include anche delle attività di comunicazione, una proposta di comunicazione, ma il committente potrebbe formulare ulteriori richieste una volta che le attività sono avviate, o chiedervi magari di interpretarle in una certa direzione. Per esempio, nell'ultimo progetto che ho seguito, il committente mi ha chiesto esplicitamente di investire esclusivamente sulla comunicazione digitale. Quindi non voleva stampa, non voleva mass media tradizionali come la televisione, radio, giornali, non voleva eventi, non voleva niente di tutto questo. Voleva investire esclusivamente su un piano di comunicazione digitale. Questo ha influito pesantemente sul tipo di piano di comunicazione che ho sviluppato, come anche il budget, ma come anche la privacy. Quando era il 25 maggio del 2019, è entrato in vigore il GDPR, quindi questa nuova normativa a livello europeo in materia di privacy. Ecco, il progetto che avevo iniziato nel 2014 ha avuto diverse conseguenze in seguito all'approvazione di questa normativa. Banalmente basti pensare le newsletter da un giorno letteralmente all'altro non siamo più stati in grado di inviare newsletter a tutti gli utenti che ancora non ci avevano dato il consenso aggiornando la propria volontà di ricevere queste informazioni digitali e elettroniche ai sensi del GDPR, di altri fattori da tenere in considerazione nella fase di analisi per la stesura e la redazione di un buon piano di comunicazione. Ce n'è anche un altro di fattore, ce ne sono tantissimi, magari ne cito giusto un altro per chiudere un po' il mio elenco di piccoli spunti per la vostra attività di comunicazione di un progetto europeo. E questo potrebbe essere la cosiddetta mission o vision del vostro progetto, del vostro committente e così via. Culture 360 è un progetto di public diplomacy, quindi di relazioni pubbliche di diplomazia a livello internazionale fra 51 paesi dalla Nuova Zelanda al Portogallo e in particolare fa leva attraverso l'arte e la cultura per quello che seguo io. Ecco qui. Allora, qual è la mission diciamo di questa organizzazione intergovernativa di cui fanno quindi parte quei 51 paesi più l'Unione Europea e l'Asian? Ecco, la mission di questa organizzazione intergovernativa è questo, Bridging Asia and Europe, quindi costruire dei ponti fra Asia e Europa. Come ho tradotto io questa mission in azioni di comunicazione? Per esempio, dal momento che il mio filone era il Dipartimento Arte e Cultura questa iniziativa di public diplomacy abbiamo detto che fa leva sull'arte e sulla cultura per fare questo Bridging quindi costruire ponti fra Asia e Europa tutta una serie di pubblicazioni indirizzate a un destinatario particolare in questo caso erano professionisti della cultura quindi curatori di musei artisti e così via per promuovere la mobilità fra questi 51 paesi delle guide con finanziamenti e opportunità una per ciascuno dei 51 paesi in modo da facilitare la mobilità di responsabili di museo curatori di esibizioni artisti eccetera fra tutti questi paesi oppure la visione che cos'è la visione? se la missione è chi siete cosa fate voi il vostro progetto in questo momento è la visione dove volete arrivare perché fate tutte queste cose questa è la visione sempre della stessa organizzazione intergovernativa quindi la nostra visione è un mondo in cui asiatici e europei danno forma al futuro insieme in maniera rispettosa equa e sostenibile come ho tradotto questa visione in attività di comunicazione per esempio un'altra serie di pubblicazioni che erano risposte creative ricordiamoci che io sto seguendo il filone arte e cultura a esigenze di sviluppo sostenibile gli obiettivi sono il secondo passo metodologico del nostro piano di comunicazione e quindi ci aiutano a capire come comunicare il nostro progetto europeo concluso il lavoro preliminare di analisi la definizione di questi obiettivi costituisce il secondo fondamentale passo e si tratta di una fase cruciale della strategia di comunicazione di un progetto europeo perché destinatari azioni canali e strumenti di comunicazione sono tutti una conseguenza logica degli obiettivi che noi definiamo adesso adesso qualsiasi comunicazione sicuramente produrrà degli effetti buoni o cattivi che siano ma comunque produrre degli effetti non significa automaticamente agire in modo strategico perché agire in modo strategico significa raggiungere dei risultati che avete previsto quando mancano questi obiettivi o quando questi obiettivi sono deboli ecco allora è più facile ottenere effetti comunicativi distorti non andare nella direzione in cui pensavate o avevate dichiarato nella vostra proposta tecnica di voler andare significa sprecare risorse significa mettere in moto automatismi senza scopo pubblicate su facebook boh chi lo sa perché state pubblicando su facebook sì perché magari pensiamo che promuovere il nostro progetto su facebook dal momento che pare un canale così economico alla portata intuitivo sia un modo facile anche buono per raggiungere e supportare i vostri più ampi obiettivi di progetto ma lì la cosa non finisce ecco quindi non dovete fare una cosa semplicemente perché c'era scritto così dovete sapere perché lo state facendo e soprattutto soprattutto questo è il punto principale per me degli obiettivi ed è per questo che l'ho scritto ancora più in grande la comunicazione non è mai fine a se stessa altrimenti è autoreferenziale è superflua è un serpente che si morde la coda la comunicazione che funziona sia che sia un progetto europeo sia qualcosa magari di diverso ma comunque legato alla comunicazione è una comunicazione che supporta gli obiettivi del progetto quindi cosa voglio dire quando parlo di obiettivi più ampi mettiamo che voi adesso stiate lavorando al vostro piano di comunicazione integrata benissimo ma questo piano di comunicazione integrata fa a sua volta parte e riferimento come abbiamo visto a un progetto più ampio giusto il vostro progetto europeo quello che dovete comunicare ma a sua volta questo progetto europeo probabilmente sarà inserito in un programma ancora più ampio quello dei finanziamenti giusto che finanziano e danno fondi non solo al vostro progetto ma anche ad altri progetti e a loro volta questo programma probabilmente risponde a delle policy specifiche dell'unione europea ecco gli obiettivi che funzionano meglio sono gli obiettivi scusatemi gli obiettivi di comunicazione che funzionano meglio sono gli obiettivi che supportano più ampi obiettivi di progetto che a loro volta supportano più ampi obiettivi di programma che a loro volta supportano più ampi obiettivi di policy e questa coerenza fra i vostri obiettivi di comunicazione e quelli più ampi è molto apprezzata dal committente, almeno questo è quello che ho visto io nelle amministrazioni centrali, diciamo le DG della Commissione europea. Facciamo un esempio, il progetto Fostering Med di cui vi parlavo prima, va bene? Allora il progetto di Fostering Med del quale io ho seguito il piano di comunicazione integrata, lo vedete qui, lo vedete qua, il mio piano di comunicazione integrata nel pallino giallo, era a sua volta inserito e in supporto agli obiettivi di un progetto più ampio, Fostering Med, che è un progetto strategico all'interno del programma multilaterale per la cooperazione cross-border, si dice, oltre confine, scusate mi sono un po' lento nel tradurre e parlare in automatico dall'inglese all'italiano, che a sua volta comunque faceva parte della European Neighborhood Policy. Ecco, in questo caso obiettivi di comunicazione a supporto del progetto strategico Fostering Med, a loro volta allineati con il programma e la policy più ampia, hanno garantito un processo più rapido e fluido per l'approvazione dello strumento stesso, del piano stesso. Ma veniamo quindi a una domanda probabile che magari alcuni di voi o che molti mi fanno quando parlo di come comunicare un progetto europeo. Esistono obiettivi generali che vanno bene per tutti, obiettivi di comunicazione ovviamente di un progetto europeo? Ovviamente no, io dico qui non c'è una taglia unica, one size fits all, no, la risposta è no, non ci sono obiettivi standard di comunicazione, magari ci sono dei temi ricorrenti e adesso li vediamo, però gli obiettivi cambiano di anno in anno e cambiano anche da progetto a progetto. Vi ricordate il piano di comunicazione di quell'esempio, di quel progetto EU Gateway Business Avenues di cui vi ho accennato, un progetto che è durato 5 anni, si è trasformato in 5 piani di comunicazione, ognuno aveva obiettivi diversi che si adeguavano di volta in volta alla nuova fase del progetto. Probabilmente obiettivi di branding, l'abbiamo detto prima, communication invisibility, quindi far conoscere e apprezzare l'attività del progetto, ma al tempo stesso migliorando l'immagine percepita e magari associando le temi chiave della vostra iniziativa, oppure fornire delle informazioni, dare tempestivamente contenuti rilevanti al vostro pubblico di riferimento, ma ancora partecipazione, quindi avviare o rafforzare il dialogo con i vostri destinatari coinvolgendoli sui temi chiave per il vostro progetto, oppure servizi, offrire modalità alternative di fruzione dei servizi attraverso gli strumenti di comunicazione stessi, per esempio app, social e così via, ma anche trasparenza, quella che viene chiamata accountability, quindi garantire un resoconto puntuale e trasparente dell'azione di progetto, individuare nuove soluzioni che possano agevolare l'accesso alle informazioni. Benissimo, questi obiettivi sono spesso riconducibili a due principali filoni di attività, communication invisibility, l'abbiamo chiamata, adesso si parla anche molto di dissemination exploitation, quindi diffusione ma anche, diciamo, sfruttamento di questi risultati del progetto. Non dobbiamo semplicemente promuoverci e autoincensarci, ce l'ho fatta dirlo. Dobbiamo anche fare in modo che quanto il nostro progetto ha prodotto, scusatemi, sia sfruttato e sia usato da terzi. Vediamo adesso come ho tradotto queste due richieste, quindi communication invisibility e dissemination exploitation, nell'ambito del progetto EU Gateway Business Avenues, quindi quel progetto che è durato cinque anni e che ogni anno ha avuto degli obiettivi di comunicazione diversi. Iniziamo. Nel 2016, quando ho avviato le attività di comunicazione pianificandole per questa iniziativa, ho posto l'enfasi su obiettivi di comunicazione interna. Perché? Perché stava iniziando tutto, non c'erano ancora prodotti e risultati da questo progetto, ma c'era l'esigenza di investire, per esempio, sulla propria squadra, sui partner di progetto, c'era l'esigenza di fare il cosiddetto branding, quindi sviluppare il nostro marchio, la cosiddetta visual identity, l'identità visiva. E poi, una volta impostati gli strumenti di comunicazione interna e avendo realizzato il nostro marchio, il nostro brand, solo allora ho potuto spostarmi su obiettivi che io chiamo di awareness, in questo caso outreach, quindi farmi vedere verso l'esterno. Vediamo un po' in cosa però sono consistiti principalmente gli obiettivi di comunicazione interna, perché spesso ci si butta su questa outreach, il piano di comunicazione è intesa semplicemente come promozione verso l'esterno e si sottovalutano le parti interne, su cui invece in questo caso ho investito, diciamo, i primi 6-7 mesi del progetto sono stati soltanto di intensa, molto intensa, attività di comunicazione interna. E come si svolgeva questa comunicazione interna? Beh, per esempio, attraverso riunioni di lavoro, un po' in tutto il mondo, ricordiamoci, questo era un progetto che riguardava 37 paesi fra Europa e Asia, quindi tutta una serie di presentazioni per anche capire come funzionavano le redazioni, c'erano redazioni molto estese in due continenti, abbiamo redatto dei manuali d'uso, abbiamo per esempio realizzato un manuale di design per l'uso del logo del progetto e poi un cosiddetto communication toolkit, quindi un pacchetto pronto all'uso di strumenti di comunicazione che, guardate qui, aveva la bellezza di 663 documenti organizzati in 185 cartelle e un manuale di design che, dall'uso del logo, ai leaflets, alle foto, ai gadget, ai jingle per le inserzioni radiofoniche o ai video teasers o ai sottotitoli dei video, aveva proprio tutto, i modelli per la carta da lettera, i modelli per i template di Word, c'era dentro istruzioni dettagliate, questo è un esempio di declinazione dell'obiettivo di branding, visual identity, su una business card, quindi su un biglietto da visita, oppure dal biglietto da visita agli stand fieristici di questa iniziativa che dovevano mostrare bene in chiaro il logo dell'Unione Europea e anche il logo del progetto. Ecco, come potete vedere, per questo che ho detto, in sette mesi abbiamo investito tantissimo nella comunicazione interna, un investimento iniziale che ci ha consentito però di arrivare preparati quando poi ci siamo aperti verso l'esterno. Avevamo messo su, attraverso azioni di comunicazione interna, le nostre redazioni estese, avevamo costruito la nostra identità visiva, il nostro marchio e potevamo ora aprirci verso l'esterno, tant'è che l'anno successivo, il 2017, gli obiettivi sono cambiati. L'obiettivo di branding, per esempio, che nel 2016 era visual identity, nel 2017 è diventato visibility, quindi dare visibilità al progetto e all'Unione Europea attraverso il progetto. L'obiettivo di awareness, quindi di generare consapevolezza, far capire al pubblico dei nostri destinatari che esistevamo, si è trasformato in consolidation e quindi non solo dovevano sapere che c'era questo progetto, ma dovevano anche cominciare a sviluppare un certo interesse e questo interesse doveva portare al cosiddetto engagement, coinvolgimento, quindi far partecipare i destinatari, che in questo caso erano aziende europee, che la Commissione Europea aiutava ad espandersi in Asia, dovevano partecipare alle nostre iniziative. Questo poi ovviamente è andato avanti, abbiamo detto ogni anno avevo obiettivi di comunicazione diversi, come si sono evoluti? Il mio obiettivo di network, che era un obiettivo di comunicazione interna dell'anno di lancio, di apertura di questa iniziativa, quando l'iniziativa ha cominciato a macinare migliaia e migliaia di domande e di contenuti, ha reso necessario investire sulla coordinazione di tutte queste risorse. L'obiettivo di consolidazione si è trasformato, vi ricordate, era interest, quindi generare interesse nell'anno precedente e adesso si è trasformato in loyalty, quindi fidelizzazione. Cosa significa? Che volevo far leva sui partecipanti alle edizioni precedenti perché fossero loro a promuovere l'iniziativa, in modo da togliermi un po' di pressione. Non dovevo solo essere io a fare comunicazione, ma potevo contare su testimonial i beneficiari di questa iniziativa per far sì che fossero loro a parlarne, mentre branding e engagement restavano. E infine, 2020, l'enfasi è tornata sulla comunicazione esterna e l'obiettivo principale, oltre al branding, la visibilità, che è forse una costante della comunicazione di un progetto europeo, si è inserito un obiettivo di accountability. Cos'è l'accountability? Abbiamo detto, quindi trasparenza, lo potremmo tradurre in italiano, non solo quindi per quanto riguarda i risultati raggiunti, ma anche la possibilità di sfruttare prodotti scoperte raggiunte grazie a questa iniziativa. Vi ricordo che questa iniziativa aiuta le pubbliche amministrazioni, scusatemi, non le pubbliche amministrazioni, aiuta le aziende europee a espandere le loro attività e ai loro business all'estero. Quindi cosa abbiamo fatto? Per quel che riguarda l'awareness, scusatemi, l'accountability e l'exploitation, qui potete vedere un pezzo, diciamo, degli annual report. Quindi ogni anno noi pubblicavamo dei report in cui in maniera trasparente, accountability, spiegavamo come avevamo investito le risorse, chi erano stati beneficiari, quanto erano rappresentativi, per esempio, dei 27, allora 28 paesi membri dell'Unione Europea o di altre categorie, per esempio, erano solo piccole o micro imprese o erano medie imprese, grandi imprese e così via. Accountability è solo un esempio questo, ovviamente ce ne potrebbero essere tantissimi, ma anche exploitation. Alla fine di 5 anni, di un percorso più lungo, perché questo progetto è iniziato nel 1990, quindi 20 anni, anzi 25 anni è durato, ecco, alla fine di questi 5 anni abbiamo raccolto tutta una serie di suggerimenti e strategie per avere successo in Asia e le abbiamo condivise. Qua state vedendo uno screenshot che io ho preso da una sezione del sito in cui chiunque adesso, le imprese ovviamente, è stato promosso presso queste, presso le organizzazioni di settore, possono scaricare guide, la guida in cui gli spiega cosa funziona e cosa non funziona per tutta una serie di settori di attività in Asia, oppure i cosiddetti target market studies, quindi studi di settore su mercati specifici in Malesia, a Singapore, nel settore dell'environment and water technologies, in quello del construction and building technologies e così via. Ecco, questo è non solo dissemination, ma anche exploitation, restituire, dare all'esterno, non soltanto ai beneficiari diretti di questa iniziativa strumenti e prodotti e servizi che possano massimizzare e aumentare la portata e l'efficacia di questa iniziativa, agendo non soltanto all'interno dell'iniziativa stessa, ma come abbiamo visto prima, gli obiettivi sono più ampi del programma, delle policies, dell'Unione Europea e così via. In questo caso potrete capire che stiamo facendo riferimento a policies legate al trade, quindi Digitrade, Free Trade Agreements, tutti questi scambi e accordi commerciali fra l'Unione Europea e Paesi Terzi. Benissimo, siccome sono tratto molto specifico delle azioni, prima di chiudere con questa prima parte, volevo giusto fare una puntualizzazione. Gli obiettivi non sono da confondere con gli indicatori usati per misurarli, per esempio, un indicatore potrebbe essere 1000 like su una pagina Facebook, sto banalizzando, e non devono però gli obiettivi di comunicazione essere confusi neanche con le azioni necessarie a raggiungere il risultato, per esempio, aprire una pagina Facebook. Questi non sono obiettivi, questi sono appunto azioni o indicatori. Perciò, tornando magari nell'ottica di quegli obiettivi generali, generici, anzi, di cui avevamo parlato prima, un obiettivo generico di comunicazione potrebbe essere informazione, abbiamo detto. Un obiettivo di comunicazione un po' più specifico potrebbe essere sviluppare la presenza del vostro progetto su piattaforme specifiche, per esempio le piattaforme mobile, visto che ormai questi dispositivi si usano tantissimo, e creare, avviare canali di instant messaging, per esempio WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, eccetera, entro una certa data, ecco, quella è più un'azione. Quindi, per concludere questa prima parte, vi lascio con questa schermata. Questa schermata ci spiega come sono gli obiettivi di successo di un piano di comunicazione di un progetto europeo, e sono obiettivi SMART. Cosa significa? Sono obiettivi, è un acronimo, che devono essere specifici, misurabili, raggiungibili nel tempo, rilevanti e anche definiti nel tempo. Destinatari, destinatari di un'attività di comunicazione per un progetto europeo. Benissimo, manco a dirlo, come per gli obiettivi non esistono destinatari comuni a tutti i progetti. Anche questi possono cambiare, e abbiamo visto che cambiano in funzione degli obiettivi, ok? Degli obiettivi di comunicazione. Ciascun obiettivo di comunicazione può avere uno o più destinatari di riferimento. Questi destinatari, magari, sono gli stessi di obiettivo e non obiettivo, a volte possono essere specifici. Nel contesto di un progetto europeo, ricordatevi, se volete usare Target, usatelo, io non condivido, ma fatelo pure, ovviamente siamo tutti liberi, ma ricordatevi che la vostra campagna di comunicazione non è questa, ma è più simile a questa campagna. Questa è una campagna di comunicazione che ha più possibilità di successo, ovvero una campagna di comunicazione in cui voi agite, diciamo, non nel breve periodo, sparate il vostro messaggio e, ok, mettete il timbro, la comunicazione del mio progetto europeo è stata fatta, ho raggiunto i miei destinatari, ho colpito i miei Target, fine. No, la comunicazione che funziona e che la Commissione europea gradisce vedere è una comunicazione che agisce, diciamo, nel medio, almeno lungo periodo, se non lungo periodo, quindi una comunicazione in cui si coltivano rapporti di fiducia, magari se non con i vostri destinatari finali, almeno con i vostri partner di progetto, con le agenzie di stampa, con altre organizzazioni di settore che magari rilanceranno la vostra notizia, il vostro contenuto e così via, come ho suddiviso, segmentato, se vogliamo, il mio pubblico di riferimento. Innanzitutto avevo un pubblico di riferimento sicuramente interno. Lavorando su 37 paesi avevo le mie squadre di comunicazione e non solo in Unione Europea, in Cina, in Corea, nel sud-est asiatico e in Giappone. Poi avevo anche il mio stesso committente, questo Service for Foreign Policy Instrument, quindi l'FBI si chiama. Avevo le delegazioni dell'Unione Europea in tutti questi nove paesi asiatici. Questo era il mio pubblico che consideravo interno. Avevo poi un pubblico esterno, le aziende, che erano i beneficiari finali di questa iniziativa. Ma avevo anche organizzazioni di settore, le aziende lavorano in vari settori. Il mio progetto ne copriva nove, dal Contemporary European Design alle ICT. Avevo come pubblico esterno anche quelli che io considero moltiplicatori, destinatari di comunicazione che magari non sono proprio i beneficiari finali, ma che hanno molta visibilità presso i vostri beneficiari finali e che quindi possano moltiplicare, amplificare la portata del vostro messaggio. Banalmente i testimonial, banalmente le organizzazioni di settore o le agenzie di stampa che rilanciano la vostra comunicazione e così via. Quindi avevo un pubblico esterno, avevo un pubblico interno e poi avevo una sorta di pubblico ibrido che comunque dovevo considerare. Per esempio, le rappresentanze permanenti degli stati membri dell'Unione Europea a Bruxelles. Dal momento che il mio progetto, per esempio, aveva a che fare con le aziende, ripeto, aiutava le aziende dei paesi membri UE a ampliare il proprio mercato in Asia, ecco che rivolgendomi alla rappresentazione permanente, non so se l'ho tradotta correttamente in italiano, si chiamano EU Member State Permanent Representations, quindi rivolgendomi alla rappresentanza permanente dell'Italia o della Danimarca a Bruxelles, avevo modo poi di agganciare, non so, le camere di commercio italiane, le associazioni di settore danesi e così via e amplificare il mio messaggio. Altri progetti dell'Unione Europea, avendo a che fare con paesi come la Cina, il Vietnam, eccetera, il cosiddetto IPR, quindi Intellectual Property Right, era un potenziale pericolo per i miei beneficiari finali, perché questioni di copyright, furto di brevetti, eccetera, potevano impedire ai miei destinatari beneficiare i finali di usufruire dei servizi del mio progetto europeo, perciò altri progetti europei che si occupavano di questi temi diventavano, diciamo, una sorta di pubblico mio, interno e esterno, avevo le varie DG, DG Trade, DG Agri, a seconda dei settori, avevo i miei partner di progetto e così via. Durante il mio piano di comunicazione ho poi proceduto a suddividere e identificare gruppi omogenei e significativi all'interno di questi cluster più ampi. Pubblico io le do partner. Mettiamo che io, partner a me non dice molto, ok? Alla Commissione Europea, il mio committente fa capire che io avrò delle altre organizzazioni con cui collaborerò o coopererò, però poi di fatto chi sono queste persone o queste organizzazioni, queste entità? Come faccio a personalizzare la mia comunicazione verso i partner? Benissimo, comincio a segmentarli. Ecco qua che i partner, per questo progetto io ho identificato 5 tipologie di partner. Avevo Key Multipliers, General Multipliers, Cooperating Business Networks e così via. Quindi già quell'unica voce che era partner, adesso è stata quintuplicata in 5 entità. Avevo poi però, vi ricordate, lavoravo su 9 settori diversi, perché le aziende che potevano partecipare potevano provenire dall'industria, dal settore medico, da quello agroalimentare e così via. Quindi questi 5 tipi di partner, ciascuno di questi era a sua volta ulteriormente segmentato per settore. Come si fa a decidere? Ricordiamoci che il piano di comunicazione ci aiuta a compiere scelte logiche e strategiche assegnando priorità sulla base di risorse limitate. Va bene che era un progetto da 60 milioni di euro, però non potevo pensare di gestire migliaia di diversi destinatari. Queste non sono persone, non sono singole persone, badate bene, ma sono per esempio l'associazione del biologico in Grecia. Quindi come si fa a decidere su chi investire e su chi invece in quel momento non è possibile concentrare le poche risorse a disposizione? Ebbene, io uso un modello che condivido con voi che si chiama modello della salienza degli interlocutori, perché in caso di risorse limitate è possibile, per esempio, calcolare quanto sono rilevanti per il mio progetto europeo determinati interlocutori sulla base di alcune caratteristiche. Queste caratteristiche non sono sempre le stesse, sono tre caratteristiche che in quel momento per il vostro progetto risultano importanti e banalmente. Si fa una sorta di, questo si chiama diagramma di Venn, quindi dei cerchi che si intersecano fra loro. Le caratteristiche importanti si scrivono qui, per esempio caratteristica 1 la mettete qui, caratteristica 2 la mettete qui, caratteristica 3 la mettete qui e poi cominciate a ragionare. Quei centinaia, decine o migliaia di potenziali interlocutori destinatari che avete, li collocate su questo diagramma a seconda delle caratteristiche che hanno. Se ce le hanno tutte e tre saranno qui e avranno sicuramente una massima priorità, perché significa che se hanno tutte e tre le caratteristiche prioritari e importanti per voi, sono proprio le persone a cui dovete rivolgervi subito. Se hanno solo due caratteristiche in comune, si metteranno qui e quindi si può dire che hanno una priorità media. Se hanno una sola caratteristica si metteranno qui e hanno quindi una priorità più bassa e se non hanno alcuna caratteristica potranno essere considerati non prioritari. Questo significa procedere in maniera strategica e logica nella individuazione di un pubblico di riferimento per un piano di comunicazione. e questo si fa con riferimento a obiettivi specifici. Ogni obiettivo potrà avere priorità di destinatari differenti. Per esempio, io prima ho parlato dei moltiplicatori, vi ricordate? I moltiplicatori sono agenzie di stampa, testimonial, quindi possibili destinatari che possono amplificare la portata del mio messaggio. Ecco, le tre caratteristiche che vedete in questo esempio che ho usato per valutare la priorità dei miei moltiplicatori, multipliers, erano la portata, per esempio, questa organizzazione, questa testata giornalistica, quanto può aumentare la visibilità del mio progetto? Un'altra caratteristica di questi moltiplicatori era la loro disponibilità. Per esempio, ma qual è la reale possibilità di cooperazione fra questa organizzazione, questo destinatario e il mio progetto? E poi, sintonia, per esempio, quali e quanti settori sono in comune con il mio progetto? Oppure, i miei beneficiari finali, le aziende. Come le valutavo? Quali erano le caratteristiche delle aziende, dei miei beneficiari finali? Ma in questo esempio vi sto facendo vedere lo stesso diagramma usato per dare priorità ad altri segmenti. Le aziende, per me, erano importanti quando avevano urgenza delle richieste, per esempio, la domanda per partecipare a quella opportunità stava per scadere. Legittimità, dovevo concentrarmi sulle aziende che avevano i requisiti per partecipare a questo progetto. Rappresentatività, dovevo fare in modo che non ci fossero partecipazioni a questa iniziativa soltanto da parte, non so, di aziende tedesche, francesi e italiane. Poi individuo tre caratteristiche importanti per quel pubblico di riferimento e poi vedo chi le ha tutte e tre, chi ne ha solo due, chi ne ha solo una e chi non ne ha nessuna. Lo strategy mix, quindi il quarto passo metodologico del piano di comunicazione di un progetto europeo che determina l'approccio con cui cercheremo di coinvolgere tutti questi destinatari, tutti questi interlocutori. Adesso qui ho quattro spunti che ritengo molto importanti, che ho preso proprio dai tre progetti europei per i quali ho seguito la comunicazione di cui vi ho parlato prima e sono spunti che si basano non soltanto sull'efficacia delle azioni ma anche sulla sensibilità, diciamo, dimostrata dal committente, la Commissione europea verso l'una piuttosto che l'altra. Perché quando si parla di strategy mix, l'approccio che noi tendiamo a fare, quello più tradizionale, è il solito, in gergo tecnico si chiama outbound. E cosa significa? Significa pubblicare notizie sul nostro sito, significa fare pubblicità, significa mandare all'esterno attraverso inserzioni, notizie, comunicati, eccetera, eccetera, informazioni sul nostro progetto. Ecco, questo approccio è molto tradizionale e nel lungo periodo finisce per fare il cosiddetto buy, bag, bag. Cosa significa? Compriamo l'attenzione del nostro destinatario, del nostro pubblico attraverso magari l'inserzione a pagamento oppure imploriamo l'attenzione del nostro destinatario attraverso magari, non lo so, inoltro di email con preghiera di massima diffusione e finiamo invece per fare soltanto una cosa, bug, che in inglese significa infastidire, annoiare il nostro interlocutore. E perché? Perché alla fine tutte queste bellissime newsletter, tutto questo bombardamento di notizie pubblicate sui social, sul sito, eccetera, finisce il 90% nello spam. Dobbiamo provare ad andare oltre. E come si fa ad andare oltre? Si fa cambiando la prospettiva del nostro approccio, del nostro strategy mix. Non soltanto inserzione a pagamento, non soltanto pubblicità, notizie sul sito, comunicati stampa, ma anche il cosiddetto inbound, che è il modello inverso, in cui sono gli utenti stessi a cercare i nostri contenuti. Ovviamente per far questo dobbiamo avere dei contenuti, dei prodotti, dei servizi forti. E prima si parlava di opinion leader, ma anche il passaparola, per esempio, un'azione di comunicazione che dobbiamo provare a prevedere nel nostro piano di comunicazione. Per esempio attraverso l'uso di testimonial, fare in modo che utenti soddisfatti, la cosiddetta loyalty di cui parlavo prima nei miei obiettivi di comunicazione, di visibilità e communication del progetto europeo, ecco, inneschino passaparola. Dobbiamo anche prevedere azioni di ottimizzazione dei contenuti, per esempio per i motori di ricerca o sui social network. Ecco, tutto questo non si chiama outbound, si chiama inbound, perché cerca di incanalare, indirizzare gli utenti stessi, i nostri destinatari, direttamente verso la nostra attività di comunicazione. Quindi non li forziamo, se arrivano di loro spontanea volontà è perché probabilmente sono più motivati rispetto a chi riceve una mail e la cestina subito a leggere i nostri contenuti. Altro stimolo, altro approccio alla comunicazione di un progetto europeo. Di solito ci si siede e si riposa sui propri canali che appunto vengono chiamati proprietari. Per esempio pubblico le notizie solo sul mio sito web. Non ci si deve sedere soltanto sui canali proprietari, quindi quelli che gestiamo noi. Si può, come abbiamo visto, ampliare la portata della nostra comunicazione con delle inserzioni pubblicitarie, radio, tv, affissioni, web, eccetera, ma soprattutto fare leva e cercare di sfruttare i cosiddetti canali guadagnati. Cosa sono questi canali guadagnati? Ancora una volta, per esempio, recensioni su altri siti. Se ci fermiamo soltanto sui canali proprietari, il rischio è proprio questo, e cioè ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli, perché quel sito, sì, sicuramente lo vedremo noi, probabilmente, mi auguro, anche qualcun altro, ma poi non riusciremo ad ampliare il raggio, la portata della nostra comunicazione. Per esempio, quando io parlo di canali guadagnati, quali potrebbero essere per i beneficiari finali, io avevo fatto in modo che chi partecipava a questa iniziativa, poi ricevesse dei pacchetti con foto, video, interviste, che gli erano state fatte durante la partecipazione alla mia iniziativa. Ecco, la maggior parte delle aziende finiva poi per pubblicare queste cose sui propri siti, sui propri social, presentava, diventavano loro stessi ambasciatori della mia iniziativa. Anche sui canali dei moltiplicatori cercavo di finire, per esempio, la pagina Wikipedia, la pagina di, il cosiddetto, è una sezione questa, FPI Showcase sul sito della Commissione Europea, siti partner, passaparola dalle organizzazioni di settore, garantendo un giusto equilibrio, io parlo di dieta equilibrata, fra canali proprietari a pagamento e guadagnati, perché se dovesse andare male sull'uno potrete sempre contare sugli altri due, quindi non sbilanciatevi mai sull'uno piuttosto che su un altro. La nostra strategia di comunicazione deve far passare gradualmente il nostro pubblico di riferimento da una situazione in cui magari non ci conosce e quindi dobbiamo garantire la cosiddetta awareness, consapevolezza, a uno in cui ci conosce e si incuriosisce, ci interessa e poi finalmente agisce. Quindi nel mio caso, lo strategy mix, i miei obiettivi, come erano declinati, in quali strategie di comunicazione erano declinati, iniziavo con una campagna di comunicazione dedicata alla consapevolezza, esiste il programma, procedevo poi a sviluppare l'interesse, guarda, il programma esiste, facciamo questo, quindi sappi che puoi espandere il tuo business in Asia e poi azione partecipa, iscriviti, fai una delle nostre business mission, perché sono tutte pagate. Penultimo passo è il content mix. Il content mix per me è concentrarci su temi, stile e tono della nostra campagna. E perché dico questo? Perché i temi, soprattutto quando sono legati a quei programmi e policy più ampie, funzionano sempre. Vi faccio un esempio. Durante la mia fase di progettazione dei piani di comunicazione, ho capito che i temi delle mie campagne non dovevano essere esclusivamente gli output di progetto, quindi i risultati. Non lo so, 53 missioni in Asia, 2200 aziende che hanno partecipato, 24000 meeting organizzati. Io però come tema portante della mia campagna ho deciso di investire sugli outcomes, quindi sugli effetti a cascata che potevano derivare da queste mie campagne. E questo è stato molto importante perché il cliente, il committente, la Commissione Europea ha detto, beh, meno male, finalmente, come tema portante nel content mix del mio piano di comunicazione di questo progetto europeo, ho deciso di mettere gli outcomes. Non volevo soltanto numero di business mission realizzate, numero di partecipanti, ma volevo sapere che queste business mission hanno contribuito alla creazione di oltre 5000 posti di lavoro nell'Unione Europea. Questo che vedete adesso è uno screenshot da un video di fine progetto, un video che ho usato nella fase appunto di dissemination and exploitation. Come tema, quindi come content mix, che temi avevo identificato? Bene, i miei temi, se mi fossi limitato al contesto del mio progetto, erano missioni di lavoro per aziende europee in Asia. Ma io non volevo parlare solo di questo, volevo agganciarmi, vi ricordate, agli obiettivi più ampi, erano quelli che volevo supportare, erano quelli che volevo che la Commissione Europea vedesse, che stavo promuovendo, oltre ovviamente nel contesto del mio piccolo progetto. Perciò ho cercato di creare collegamenti fra queste business mission organizzate dal progetto EU Gateway in Asia e per esempio tutte le azioni di mercato, gli economic partnership agreement, scrivevo dei comunicati stampa, press release, che nel contesto di questi accordi inquadravano anche il mio progetto. Ecco qua, EU Gateway, il nome del mio progetto, perfectly aligned with, anzi tu, quindi perfettamente allineato con questo accordo di cooperazione con il Giappone. in modo da far vedere che non solo il progetto portava acqua, diciamo, al mulino delle aziende che vi partecipavano, ma era anche perfettamente in sintonia e in linea con la visione più ampia. Quindi content mix, inteso come individuazione dei temi che poi contraddistingueranno i contenuti specifici. Media mix, che è il sesto e ultimo passo, il pieno di comunicazione di un progetto europeo, invece ci arriva soltanto alla fine. Dopo aver pensato analisi, obiettivi, destinatari, cos'era, strategie, contenuti, è finalmente media mix. Ok, ho questi contenuti, dove vanno bene? Come li posso finalmente far arrivare al mio destinatario? Per ogni canale individuato, si scelgono azioni e strumenti coerenti, e poi si controlla e assegna un budget programmando anche il cosiddetto piano editoriale, quella cosa che non è da condividere, scusatemi, da confondere con un piano di comunicazione. Vediamo un po', prima avevo parlato anche di esperienze, le cosiddette lessons learned. Quali sono le mie lessons learned nel campo del media mix? Soprattutto in questi ultimi anni ho visto la tendenza a prediligere un approccio paperless. Adesso non so quanto possa essere utile per la redazione del vostro progetto europeo. Nella proposta tecnica, inserire, se non altro considerare, questa possibilità. Ma ho visto diverso apprezzamento a Bruxelles e anche all'estero, per esempio in Corea, la delegazione dell'Unione Europea in Corea, per quel che riguarda l'investimento sui media digitali. Quindi niente più stampa, niente più... anche merchandising, per esempio, pen, eccetera, eccetera, che vedo molto spesso indicate nelle proposte tecniche come output e indicatori del successo della realizzazione di un'attività di comunicazione. Dimostrate cautela in tema della privacy. Vi ricordate quando abbiamo parlato dell'analisi della entrata in vigore del GDPR? Ecco, occhio a come usate i dati e quali strumenti usate, perché se la vostra comunicazione si basa su WhatsApp, su Facebook, su Google Analytics, eccetera, ecco, là suonano tanti campanelli di allarme nel valutatore europeo che vede il vostro progetto, perché se è un po' smaliziato si porrà subito il problema di ma come fanno usare questi dati, scusatemi, questi strumenti se di fatto in Unione Europea non possono essere usati. Quindi, occhio, cautela in tema di privacy. Ho visto anche una certa disillusione, l'ho chiamata per quel che riguarda le agenzie giornalistiche. All'inizio avevo ricevuto una proposta tecnica che puntava molto sulla stampa e sui rapporti con la stampa. Mi ero preparato, io venivo dall'Italia dove avevo una certa rete e una certa esperienza, quindi avevo previsto anch'io nel mio piano questo filone di attività, poi però parlando con la dirigente della Commissione Europea lei mi ha detto guarda, a me non interessa parlare con le testate, preferirei che mi trovassi altri canali, altri destinatari, e così infatti ho fatto. In particolare il monitoraggio per quel che riguarda la parte di comunicazione di un progetto europeo, almeno a mio parere, rappresenta il vero vantaggio competitivo. Non è una cosa da nerd, non è una cosa da secchioni, è veramente qualcosa che può fare la differenza nella vostra campagna. Il monitoraggio e la valutazione soprattutto come si fa? Si fa definendo obiettivi di valutazione che siano pensati per misurare appunto i tuoi obiettivi di comunicazione, usando indicatori qualitativi e quantitativi e monitorando e adattando continuamente la vostra attività sulla base dei risultati raggiunti. Per esempio dal progetto ormai parlerò di Ugeto e Business Efinus perché non abbiamo quasi più tempo. Gli indicatori che ho scelto, cosa ho capito dalla mia esperienza in questi progetti? Che nonostante gli indicatori qualitativi siano importanti, per esempio la sentiment analysis se ne parla in maniera positiva o negativa del tuo progetto, qual è l'interesse eccetera c'è continua a esserci un focus un'attenzione in particolare sull'indicatore di tipo quantitativo. Poi qua ho parlato di allineamento indicatori a risultati. Ecco cosa significa questo? Allineamento di indicatori a risultati? A volte nella vostra proposta tecnica ci saranno degli indicatori. A volte il committente vi darà degli indicatori ma i risultati potrebbero essere molto diversi. Ecco, nella mia esperienza è capitato proprio questo. Io avevo due indicatori di comunicazione, il numero di campagne di comunicazione e il numero di prodotti di comunicazione sviluppati. Ecco qui che il mio indicatore prevedeva la realizzazione di 60 campagne di comunicazione ma io a fine progetto ne ho realizzato quasi sei volte tanto 352. L'indicatore previsto per determinare il successo del mio progetto erano 120 prodotti di comunicazione io ne ho realizzato quasi 10.000. Ecco, cosa è successo? Che a un certo punto dalla commissione il valutatore anzi il committente si è reso conto che avevamo c'era una differenza troppo alta fra i risultati che avrei dovuto raggiungere e quelli che avevo invece già raggiunto e superato e mi ha chiesto di allineare quindi hanno cambiato diciamo a metà in corsa il numero di prodotti di comunicazione campagne di comunicazione che avrei dovuto realizzare e le hanno adeguate ai risultati che avevo realmente raggiunto. Durante il mio piano ci sono state non solo le revisioni a fine progetto ma anche le cosiddette mid-term reviews in cui ho dovuto produrre tutta una serie di comunicazioni e il progetto addirittura è stato preso come caso di studio in commissione europea per tutta la parte legata alla privacy. Concludo dicendo che se dovete usare delle analytics occhio che Google potrebbe non essere simpatico alla commissione europea c'è un'alternativa europea che si chiama Matomo che vi consiglio di includere nella vostra strategia di comunicazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti